Lei non vuole più spogliarsi, con questo... Vabbè, però è anche giusto, perché del resto è un'attrice, non vedo perché si debba spogliare. No, Greg, è giusto, è giusto, no? Sì. Sì. E dicevo, e quindi niente, leggiamo queste email, ne leggerai una che riguarda te, Elena... No, più di una che riguardano te. C'è questa qui che dice Elena nuda, addirittura, quindi è il pubblico che ti vuole vedere. Un'altra che dice Elena faccia vedere le cosce, poi c'è un altro uguale, Elena faccia vedere le tette, Elena quando ti spogli... Vabbè, sono cose orribili, io mi rendo conto che... No, no, sono orribile, perché... No, chi l'ha mandata? Lillo.lillo e Gregchiacciola.lil Sì, perché sei un virus, si vede. Ma sei un maiale! No, si vede che è un virus che trasforma i mettenti delle mail. Scusa Lillo, ma tu sei un maiale!